i nove martedì in onore di sant'ana quinto martedì nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo amen rallegrati o gloriosa sant'ana per l'interiore commozione e per la tenerezza che provavi nel nutrire la tua bambina quante cure spendevi intorno a lei e di quante finezze la circondavi ben sapendo che dio ti aveva concesso un tesoro vedevi nel suo volto un sorriso che incantava spirava da tutto quel piccolo essere un candore di paradiso era incatenata la tua persona all'amabile frutto del tuo grembo per la letizia che ti pervadeva nutrendo maria e standole vicina ai tuoi fedeli impetra la grazia che sappiamo apprezzare i doni di dio imitando la tua santa tenerezza materna che vedeva mirabilmente riflessa nella tua figliola l'immagine e la somiglianza di dio padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così intera dacci oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori e non ci indure in tentazione ma liberaci del male amen ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen gloria al padre al figlio e allo spirito santo come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli amen sant'ana prega per noi nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo amen grazie a tutti Grazie a tutti